Conti correnti e immobili per un valore complessivo di 200.000 euro sono stati sequestrati da polizia e guardia di finanza a Salvatore Manzella di Manfredonia, 52enne, già destinatario di una sorveglianza speciale e con precedenti penali e di polizia per stupefacenti e reati contro il patrimonio. L'uomo, secondo gli inquirenti, è elemento della criminalità che agisce a Manfredonia, dove il comune è stato recentemente sciolto per presunte infiltrazioni mafiose. Il provvedimento, su richiesta del questore di Foggia, è stato emesso dal Tribunale di Bari, la terza sezione penale, misure di prevenzione. Nello specifico sono stati sequestrati un immobile a Manfredonia e rapporti bancari. Le indagini patrimoniali estese ai familiari del pregiudicato hanno evidenziato la disponibilità diretta e indiretta di beni considerati dagli inquirenti di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.